Musica Diciamo a noi stessi, con la piena convinzione di dire la verità, Anima mia, incomincia oggi ad operare il bene, perché nulla hai fatto fin qui. Facciamo sì che ci muoviamo alla presenza di Dio. Dio mi vede, ripetiamo spesso a noi stessi, e nell'atto che Egli mi vede, mi giudica pure. Facciamo sì che Egli non veda in noi se non sempre il solo bene. Continuiamo cari fratelli e care sorelle, pace e bene a tutti, con questo buongiorno a tutti da parte di Padre Pio, dopo aver sentito questo pensiero, nel quale Padre Pio parla soprattutto della posizione dell'anima che è presente in ogni creatura. Anima, dice Padre Pio, come avete sentito dal pensiero stupendo, che è presente nell'uomo sotto e continuamente lo sguardo misericordioso di Dio. Ora, questa affermazione deve essere interpretata bene all'interno di tutta la spiritualità del santo stigmatizzato del Gargano. Essere sotto lo sguardo di Dio non significa per nulla sentirsi giudicati da Dio, quanto piuttosto nell'accezione ebraica della Shekinah, cioè di essere sotto quella mano protettiva di Dio che conduce ogni nostra azione. Il pensiero poi ha un secondo strato interpretativo piuttosto interessante. Padre Pio, è risaputo, durante gli anni del silenzio ebbe modo di leggere benissimo e di diventare un perfetto esegeta di Paolo, l'apostolo delle genti. Lesse tutte le lettere di San Paolo e da San Paolo scorporò quella che si chiama la antropologia di San Paolo, e cioè il fatto che noi siamo costituiti di anima, psiche, corpo, o meglio di corpo, psiche e spirito. Ora, Padre Pio è convinto che se uno sente e auto percepisce la propria anima come continuamente sotto lo sguardo di Dio, e fratelli e sorelle ricordiamoci, lo sguardo di Dio è misericordioso, allora sta bene anche nello spirito. Ecco perché oggi ci sono le cosiddette tante malattie dell'anima, senza citare grandi psichiatri e psicologi, perché tanti di noi, anche tanti credenti, non sanno di essere sotto questo sguardo di Dio che continua ad amarci e non a giudicarci. Dio giudica nella misura in cui è misericordioso, come avremmo modo di sentire in altri detti e scritti di Padre Pio. Ma non solo. L'anima, se ben curata sotto lo sguardo di Padre Pio, rende lieto anche il corpo. Infatti noi diciamo, si vede che non hai un'anima, per dire che magari davanti a noi c'è un corpo che non ha il sorriso. Ma c'è un ultimo dettaglio di questo pensiero di Padre Pio che è interessantissimo. Dio perdonerà sempre, e ci tengo a dirlo proprio qui da Teleradio Padre Pio che mi sta ascoltando, qualsiasi peccato che l'uomo e la donna possano commettere. Anzi, voglio proprio citare il pensiero di Padre Pio. Per quanto un uomo pecchi o possa peccare o possa avere avuto nell'anima la coscienza di aver peccato, non deve mai dimenticarsi che sotto lo sguardo misericordioso di Dio sarà sempre perdonato. In una società in cui l'ospite inquietante che ci viene somministrato dalla società della tecnica e che si trasforma poi in paura, noia, continua percezione di essere giudicati dagli altri, sapere che c'è almeno uno, Dio, che si chiama Papà, come Padre Pio, che ci osserva dall'alto, anche adesso, anche adesso, con lo sguardo misericordioso, infondendo serenità all'anima, può soltanto portarci a vivere la nostra vita con la massima confidenza in Dio, con la benedizione che noi continuiamo a ricevere dal volto di Gesù Cristo crocifisso e soprattutto con lo Spirito Santo, che secondo la lettera ai Romani 5.5 è il sperare di poter sperare. Grazie a tutti.